Puntare sull'alta formazione, sulla formazione tecnica è il modo giusto per creare occupazione e dare speranza ai giorni del futuro. Quindi la dimostrazione di oggi che l'Istituto Federico Caffè è in visita nel capoluogo di regione per vedere questo corso ITS è sicuramente la chiave di volta. Questo è l'indirizzo giusto che dà l'ITS dell'Aquila in Energy Manager, unico nel suo genere nel centro Italia che ha la forza di attrarre anche iscrizioni da fuori regione.